Presidente, diciamo che la prima era importante trovare intanto la condizione della squadra, ma soprattutto fare questo finalmente ingresso all'Angelini. È stato bello uscire tra gli applausi, ecco la prima è di incoraggiamento. No, questo stadio è eccezionale. Io me ne avevano parlato, ho visto delle immagini, ma i ragazzi sono veramente stupendi, ordinati, con un tifo veramente esemplare. Quindi questo sicuramente è importante, quello che abbiamo sempre detto. Avere dei tifosi che così è un valore aggiunto e sono sicuro che nel corso dell'anno sarà il famoso dodicesimo uomo in campo, assolutamente. Il risultato ovviamente non ci può piacere perché, come dico sempre, si gioca per vincere, quindi nessuno vuole perdere. Abbiamo già visto alcune situazioni, perché nelle partite vere possono essere viste, perché le amichevole rappresentano ovviamente soltanto un allenamento. Quindi sapevamo già, abbiamo avuto la conferma di alcune situazioni che sono da migliorare. Consideriamo che abbiamo diversi giocatori che non erano potuti scendere in campo e altri che arriveranno. Quindi siamo fiduciosi, siamo tranquilli. Certo, beh, la squadra, insomma, sarebbe offendere l'intelligenza di tutti quelli che hanno visto la partita. Ovviamente ha partito nella zona dell'attacco, questo è normale. Quindi sarà quella la zona da rinforzare, assolutamente. Ma poi diciamo che come situazione in generale, io dico sempre che è fondamentale il centrocampo, perché il centrocampo aiuta l'attacco e la difesa. Quindi nel momento in cui abbiamo un centrocampo, che peraltro non mi è dispiaciuto totalmente in alcune situazioni, possiamo tranquillamente dare una mano a entrambi i reparti. Quindi non c'è assolutamente nulla da rammaricarsi. Se non che avevamo due giocatori che avremmo voluto già inserire, ma per questioni puramente fisiche non l'abbiamo potuto fare. Quindi con quelli forse un pochettino avremmo potuto avere qualcosetti in più anche in attacco. I ragazzi li ho visti che erano molto infastiditi dal risultato perché loro ci tenevano a fare bene. Sono tutti ragazzi motivati. Chi è venuto qui a Chieti è venuto per vincere, per far svoltare la società. Non abbiamo preso, tra parentesi, pensionati o giocatori che devono venire qui per lo stipendio. Qui vogliamo gente che ha voglia di mettersi in mostra. Solo così riusciamo a fare una squadra competitiva.